R.D.E. Presa diretta Il Consiglio di Sicurezza Bielorusso, il Maggiore Generale Alexander Folvovich ha assicurato che l'Ucraina ha dispiegato un gruppo di forze militari e armi pesanti utilizzando elicotteri aerei da combattimento al confine con il territorio bielorusso. Per qualche ragione la leadership ucraina ha deciso di svolgere esercitazioni praticamente al confine di Stato con il pretesto di combattere l'immigrazione illegale, hanno affermato i militari bielorussi. Dopo aver condannato le misure della Polonia contro i migranti, compreso l'uso di cannoni ad acqua e gas lecrimogeni, Wolfovic ha sottolineato che né la Polonia né l'Ucraina dovrebbero usare armi da fuoco contro i migranti, poiché queste potrebbero provocare un conflitto locale. La Cina attacca gli Stati Uniti dopo che la Camera del Congresso ha approvato un testo di legge che getta le basi per punire Pechino sui trattamenti contro la minoranza musulmana degli Uiguri nella regione dell'Oxinyang. In nome dei cosiddetti diritti umani, gli Stati Uniti hanno violato i principi del WTO, l'Organizzazione Mondiale del Commercio, distrutto gli assetti commerciali globali, peggiorando ulteriormente le catene di approvvigionamento globali, ha commentato il portavoce del Ministero del Commercio Gao Feng. Una mossa ha aggiunto che ostacola la ripresa economica mondiale e che colpisce i prodotti dell'Oxinyang. Al via, con entrata in vigore del cosiddetto Super Green Pass delle nuove misure previste dal Decreto Legge numero 172 2021 per il contenimento dell'epidemia da Covid-19, la stretta annunciata dal Ministro dell'Interno Luciana Lamorgese, che ha visto scendere in campo le forze dell'Ordine per la verifica dei pass, sottraendo le già precarie risorse alle questioni davvero importanti. Così ora gli agenti, con il sindacato SAP in testa, si ribellano e decidono di farlo presente ai vertici. I controlli delle certificazioni verdi, infatti, sono stati spostati con una particolare attenzione alle aree, alle fasce orarie di maggiore afflusso di persone e al trasporto pubblico. Gli agenti, dunque, sono costretti sugli autobus a controllare Green Pass, mentre i malviventi girano liberi e indisturbati nelle strade. Andrea Crisanti torna a predicare calma sulla vaccinazione ai bambini, una presa di posizione che il virologo ha assunto da settimane e che gli ha tirato chiaramente non poche accuse in un paese dove ormai criticare le scelte del governo che non porta inevitabilmente a essere etichettati come Novax alle pagine della verità. Il professore ha sottolineato ancora una volta come gli under 16 non sono piccoli adulti, sono diversi dal punto di vista fisiologico e metabolico. I dati che valgono per i più grandi quindi non possono essere applicati anche a loro. I bambini devono crescere, devono sviluppare gli apparati riproduttivi, ha aggiunto Crisanti, meglio dunque procedere con cautela senza farsi prendere da ingiustificate frenesie. Che fretta c'è? Sarebbe stato meglio aspettare, anche perché nel frattempo paesi come Israele e gli Stati Uniti hanno invece deciso di dare via alla somministrazione e forniranno quindi dei dati al resto del mondo. Due persone, marito e moglie, sono rimaste ferite e un'intera palazzina di tre piani resa temporaneamente non fruibile con due famiglie evacuate in Contrada Molino a Pollenza Macerata è la conseguenza dell'esplosione di un termocamino all'interno di un appartamento al primo piano dello stabile al Civico 43. I due coniugi, feriti da 59 e 56 anni, sono stati trasportati dai sanitari del 118 all'ospedale di Macerata. E ancora cronaca e di due feriti lievi il bilancio di un incidente con uno scolabus avvenuto a Prato allo Stelvio in Alto Adige a causa della strada innevata l'autista ha perso il controllo del pullman che stava portando una quarantina di ragazze alla scuola media del paesino ai piedi dello Stelvio. Il mezzo è finito parzialmente fuoristrada per poi ribaltarsi su un lato. I passeggeri hanno lasciato il bus attraverso il lucernaio sul tetto. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, i carabinieri e l'elisoccorso Pelican 3. Fortunatamente solo due giovani sono rimasti feriti in modo lieve. I compagni illesi sono stati portati nella caserma dei vigili del fuoco in attesa dell'arrivo dei loro genitori. Ed è tutto per il nostro appuntamento con l'informazione momentaneamente. Appuntamento a più tardi. Buongiorno dalla redazione sportiva. Missione compiuta per la Juventus in Champions League. Col pass per gli ottavi già in tasca, nell'ultimo turno del gruppo H, la squadra di Allegri batte 1-0 il Malmo e approfitta del mezzo passo falso del Chelsea con lo Zenit per chiudere il girone al primo posto. Allo Stadium, buona prova dei bianconeri che vincono grazie a un colpo di testa di Keen su assist di Bernardeschi. Il tecnico bianconero Allegri analizza il primo posto e la prestazione. Sentiamolo. Siamo contenti per il primo posto. Questa dimostrazione è che vincere le partite non è semplice, soprattutto vincere in trasferta. Poi dopo però bisogna mettere da parte questa qualificazione, questo primo posto e pensare alla parte di Venezia. Per questo sono un po' preoccupato, perché il secondo tempo non mi è piaciuto. Atalanta-Viglia Reale invece è stata rinviata per neve. Si giocherà oggi alle 19.00. Dopo una prima comunicazione che indicava alle 16.30 l'orario del nuovo fischio d'inizio, la UEFA è tornata sui propri passi accogliendo le richieste dei due club che hanno insistito per scendere in campo più tardi al fine di tutelare i tifosi e consentire un più agevole accesso allo stadio dopo l'orario lavorativo. Nelle altre partite giocate ieri, il Barcellona saluta la Champions ai gironi per la prima volta dal 2000. I Blaugrana cadono 3-0 con il Bayern Monaco e finiscono terzi alle spalle del Benfica, vincitore 2-0 sulla Dinamo Kiev. Nel gruppo dell'Atalanta all'1-1 tra United e Young Boys condanna gli svizzeri e regala alla Dea almeno il terzo posto, avanti Lille e Salisburgo. Champions League di calcio femminile, la Juventus al Kings Middle di Londra blocca sulla 0-0 il Chelsea nella quinta giornata del gruppo A, un risultato che avvicina la formazione di Torino alla storica qualificazione ai quarti di finale. La Juve infatti è seconda nel raggruppamento con 8 punti, gli stessi del Wolfsburg ma in vantaggio nello scontro diretto. Nell'ultimo match contro il Servetti in casa le campionesse d'Italia possono far calare il sipario con un sorriso. Euro Cup di basket, la Virtus Bologna batte in trasferta agli sloveni dell'Olimpia Ljubljana nella sesta giornata. Le V nere vincono per 101-104 al termine di un'autentica battaglia risolta solo negli ultimi minuti, con i padroni di casa che non si sono mai resi fino alla sirena finale. Per i bolognesi seconda vittoria consecutiva è record di 4-2, per Ljubljana si tratta della quarta sconfitta consecutiva in Euro Cup. È tutto, un saluto dalla redazione sportiva. R.D.E. Presa diretta Ci siamo! Il nuovo Almanacco Barba Nera è finalmente in edicola con l'oroscopo 2022 e il calendario La Luna in Casa. Un'edizione davvero imperdibile. Barba Nera festeggia 260 anni di una tradizione ricca di utili consigli e buone pratiche per la casa, il benessere, l'orto, il giardino e la vita di tutti i giorni, seguendo le fasi della luna e il corso delle stagioni. Barba Nera, da 260 anni l'Almanacco degli italiani. Buon compleanno, Barba Nera! Consegna a domicilio del caffè La torrefazione Caffè San Giusto vi ricorda che attiva nel comune di Trieste la consegna a domicilio di tutti i prodotti, come il caffè macinato fresco per la moca, miscele e special di coffee in grani, cialde e capsule compatibili di diversi formati, senza nessuna spesa per la consegna. Ordina tramite chiamata WhatsApp 340-379-7662. Il caffè della tua città, dalla torrefazione San Giusto, direttamente a casa tua, senza spese ulteriori. 340-379-7662. Info su www.sangiustocaffè.com Radiodiffusione europea, la tua radio in onde medie, ma anche in digitale, con app scaricabili, Fire TV Stick, risponditori vocali, Radiodiffusione europea e anche Web TV, 24 ore su 24 di musica, informazione, approfondimenti, eventi in diretta, service DJ set per manifestazioni, Infoline 345-9945-637. Radiodiffusione europea, dal centro dell'Europa, l'onda media di riferimento. Buon ascolto e buona visione.